All'angrigento sabato prossimo 14 dicembre nello spazio Temenos della chiesa di San Pietro in via Pirandello, alle ore 18 si svolgerà la quinta edizione del premio Carchinos, il prestigioso riconoscimento per le eccellenze agrigentine che si sono distinte in vari ambiti. L'iniziativa è organizzata e promossa da associazione culturale coine e antiche tradizioni popolari. Il premio speciale Carchinos 2019 sarà consegnato al generale di corpo d'armata Luciano Portolano, poi per la solidarietà, alla mensa della solidarietà e a suor Maria Grazia Pelliteri, per l'imprenditoria la fonderia Virgadamo di Burgio, per l'innovazione l'agrigentino Fulvio Scichilone, per spettacolo teatro e tv l'attore Giugiu Gramaglia, per il turismo Pierfilippo Spoto, per la musica Francesco Buzurro, per la medicina e il reparto oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto dal dottor Alfredo Buterra. Menzioni speciali a Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, a Silvia Nocera, presidente dei giovani farmacisti, al Coro Magnificat e al giovane pasticcere di Castrofilippo Calogero Taibi di Taibi Laboratorio Gastronomico, già finalista la scorsa estate alla Coppa del Mondo della Gelateria. Il presidente di antiche tradizioni popolari Carmelo Cantone commenta In greco carchinos significa granchio, e il granchio è dotato di due grandi chelle, che come in un abbraccio simboleggiano l'ospitalità degli agrigentini. Il vero agrigentino non si limita alla stretta di mano, ma accoglie sempre con un caloroso abbraccio.